Io porto con me l'esperienza di docente, quindi da 30 anni di educazione musicale e quindi per me la scuola che negli ultimi anni ha subito questi forti smantellamenti, insomma, con risorse economiche sempre più risicate, è uno degli ambiti che metterei al centro. Abbiamo visto anche il partito lo sta facendo, parlando di Italia giusta per il futuro con una situazione di rivisitazione della scuola, della formazione, che vuol dire anche attenzione agli aspetti occupazionali. Per quanto riguarda gli ambiti del welfare, io come amministratore ho anche abituato a stare vicino alla gente, a cogliere i loro problemi ed esserne investiti quotidianamente. Penso che dobbiamo assolutamente in quell'ambito reinvestire in modo assolutamente più congruo per poter dare le risposte al nostro Paese in questo momento, soprattutto a seguito della crisi. I temi fondamentali che stanno nel mio cuore e nella mia agenda lavorativa sono sicuramente la disabilità, le persone più fragili, il femminicidio che è un momento veramente drammatico e sicuramente la sanità, questa riorganizzazione della sanità regionale sinceramente non mi soddisfa affatto. Sicuramente i temi di carattere ambientale, la provincia di Novara è un territorio di confine con la Lombardia nei prossimi anni, ma già oggi siamo impattati da alcune opere importanti, pensiamo alla Malpensa, pensiamo al Polo Chimico di Trecate, pensiamo all'Expo, quindi vanno affrontati con grande attenzione, va portata a Roma, i bisogni e anche le aspettative del territorio perché questi interventi diano dei benefici e non siano semplicemente un sacrificio per i cittadini della provincia di Novara. E nello stesso tempo una grande attenzione agli amministratori locali, alle loro esigenze, in particolare i vincoli del patto di stabilità che vanno allentati dal mio punto di vista, soprattutto per dare la possibilità di far partire quei piccoli cantieri che consentono di dare fiato al piccolo artigianato, alle piccole imprese locali per farle superare questo momento di fortissima crisi.